Che vuoi Staschino? Che vuoi? Eh? Su cicciolotto! Eh? Cosa vuoi? Eh? Coccoloso sei diventato una colla anche te, eh? Guarda! Io stavo mangiando, lui avessi venuto qua a chiedere la remosina. Furbacchioni! Stiamo sfornando il piano, stiamo sfornando il pane. Beh, esistirà chiaro. Questo come sta in forma, eh? Sta in perfetta forma, guardalo. Eh, Sciroce gli dai bacini. Che lecchi, cicciolotta! Poi mi dai bacini a me, eh? Perché l'uccellino a Staschi poi dai bacini a Papi, eh? Porcellina! Tra l'altro qui sotto, eh? Bello, tranquillo. Che c'è Staschi? Che c'è? Eh? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Si è, ti garba, eh? Guarda di come si lecca i baffi. Oh, mone! Cicciolotti, cicciolotti, cicciolotti. Salutino la mamma Elena! Ciao ciao! Ciao, eh? E se ne va. Bello, eh? E quell'altra, sempre da ricassare. Stupidina! Guarda come gli vuole bene, guarda come gli vuole bene. Mi ha piacicina, tra 20 giorni fa 23 anni, lei. Eh, lui a Ferragosto ne fa 13, eh? Te lo ricordavi? Sì, certo. Guardalo, guardalo, guarda come si sa chiede sulle orecchie a dire che ne fa 13, eh? Sì, ne fai 13, sai, ciccio? Eh? A Ferragosto. Come già sbassa le oreccia? Eh? Furbacchione, cosa vuoi? Eh? Cosa vuoi, cucciolotto? Eh, salutiamo la zia Elena. Sì, la zia. Sì, per loro due. Per te la mamma. Ciao Elena! Sì, 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 sì. Ciao, ciao, ciao!